long war 2 operazione fireblade l'altra volta abbiamo smesso qui con il video e ora avviamo questa missione e vediamo cosa fare ok non ho neanche letto che cosa stiamo andando a fare ok fuga dalla prigione oh madonna ancora vabbè è vicino però pensavo peggio ok che abbiamo qua abbiamo qualche classe interessante per andare a fare lo scout si la reguta sai il nostro scout vedi nulla non vedi nulla perfetto sembra come cazzo so vicini merda beh oddio possiamo in realtà anche meglio non neanche vi so dove siamo nella mappa oddio c'è un sacco di spazio qua ma teoricamente solitamente non c'è nessuno a le spalle spero possiamo mobilitare qualcuno qua sopra tu spero non ci fai sgamare per un momento mi sono cagato addosso lo ammetto purtroppo non riusciamo a metterci in guardia in tanti abbiamo un cecchino cecchino te potrai mettere t4 così puoi sparare attraverso la finestra è un'idea vediamo se si mobilitano oh vanno via sono due oggetti qua che vorrei prendere 14 turni potremmo anche andare qua diretti però però poi potremmo trovarci la tua mobilità fa schifo ci sono altri gruppi di qua una torretta non sappiamo se sono automatizzate o attivate a distanza quasi quasi questi qua pattuglieranno ancora di più di qua secondo me potremmo evitarli andare alla prigione direttamente entrare da di qua ci proviamo ci proviamo ok 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 se qua mi sa che dobbiamo ingaggiarli mi spero che i droni non facciano gli infami la granata perfetta mi spero oh cazzo sono droni indietro merda non pensavo possiamo spostarci in modo tale da non dover combattere due gruppi in un turno solo quella è la domanda del secolo siamo una siamo in una posizione di merda invece vabbè ma anche ci vedete un po' nel cazzo intorno a qui che ci sono altri gruppi di qua non penso voi voi potete muore abbastanza ad andare via da questo gruppo qua si apparentemente potete vuole anche andare via da torretto in realtà via 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 dobbiamo ingaggiare entrambi a meno ingaggiamo da buone coperture ok ok la granata qua ci sta tutta cioè non vedo come fare altrimenti queste cose continuano ad avvicinarsi però forse riusciamo ad andare indietro riusciamo a indietro già un altro po' e a levarci dal loro si si può fare si è los perfetto con chi ingaggiare con la recluta ok via morto qualcuno? si due di loro perfetto ok buon inizio ok abbiamo la torretta visuale non importa possiamo facilmente cazzo pensavo di riuscire ad attivarci non importa provoci provoci avvicinare vabbè non guardi avvicinare non guardi non guardi non guardi mi guardi non guardi doppia tempo non guardi forse potrei fare prima l'appuntamento vabbè non importa i caricatori automatici di rito molto bene Se noi ci spostiamo qui, la torretta non è più visuale nostro, giusto? Abbiamo visuale sul trone. 50% non è male, ma non è abbastanza, in quanto pare. 65% Ok, però Mentoring non capivo cosa stesse succedendo. 11 turni, ce la possiamo fare tranquillamente. Se gli altri tornano a Patoia, dall'altra parte è perfetto. Forse è quello che sta accadendo, è proprio quello. Ok, quindi... Tocca di aspettare a dire! Le celle sono qui, si può entrare da di là. Facciamo questo! Ok, non c'è nessuno. Via, via, via. Ok, molto bene. Tutti questi siamo? Ok, dici turni. Vabbè essere abbastanza tranquilla, mo' la cosa. In un certo senso. Finalmente! Sperando... Ma se non troviamo gruppi qui, è tanta roba. Uh, perfetto. Via, via, via. Sperando... Sperando... Affermativo. Sperando, metterci qui in qua solo per qualche turno. Già, mi occupo. Vediamo, nuovi turni. La porta è lì. Pregiù sono molto vicine. Vedi qualcosa? No. Ok. Via, 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 via. Approfittiamone. Qua è la fine della mappa. Sì. Va bene. Va bene. Continuiamo a muoverci. Con rapidità. Stiamo avvicinando i tre stronzi. Oggi siamo a nostro turno, sono contento. Perfetto. Vediamo se scambiamo qualcosa o qualcuno. A quanto pare no. Ok. Continuiamo a muoverci. Qui basta che entra... Proprio lei. Mi va benissimo. Con gli altri ci posizioniamo... Per attendere il nemico. Ok. Molto bene, molto bene. Mi sta piacendo fino adesso. Siamo in guardia. Movimento inizio. Oddio, spero non siano qua niente. Ma secondo me sono proprio appena fuori dall'edificio. Qui, su da destra. Eh, arrivano pure le rinforze qua. No, non dovevo neanche entrare in realtà. Ma vabbè. Che cazzata. C'ho proprio il gremlin apposta. Vabbè, l'abitudine è non averla mai avuta fino adesso. Eh, uh. Chiudo di... Andiamo a vedere l'archivio di dati. Ci siamo per fare contatto. Mamma mia. Bene. Perfetto. Fantastico. Molto bene. Potremmo addirittura andarcene via... Ah, cazzo. Devo aprire anche quella. No, è aperta. Ok, perfetto. Gli altri due però non possono uscire, purtroppo. Vabbè, per ora siamo qui. Ok. Sì, voi purtroppo non potete uscire. Pazienza. Eh, ho fatto una piccola cappelletta lì. E niente. Aspettiamo... Si rinforzi. Vediamo dove scendono. Vabbè lì. Ok. Va bene. Eh, vediamo queste guardie di... Fa qualcosa di buono. Ok. Perché non è morto in realtà? Ah, un po' Sia. Speravo qualcosa di bene. Dai, due morti. Se non arrivano gli altri tizi... Va bene. Onestamente va bene se non arrivano gli altri. E non penso che arrivino. Infatti no. Va bene. Abbiamo imparato che il lancifiamme non ammazza sempre. Qua possiamo anche andare di... Cattiveria pura. Tipo puntamento rapido... Direi andare prima sull'ingegnere. Eh, vediamo. Abbiamo tante possibilità qua. Molte possibilità. Io direi... Direi utilizzare granate. Non vuoi avanzare? Questo no. Non mi vai di sgamare gli altri più che altro. Abbiamo una... Una flashbang nel caso. Sì. La risposta è sì. Ce l'abbiamo. Sì, non so perché ho fatto loro target. Quando alla fine lo sto semplicemente bombardando. Ma va bene lo stesso. Non importa. Ma va bene lo stesso. Gli antichi ribelli andavano portati in salvo. E ce la stiamo facendo con... Questa missione... Molto... Molto stealth in un certo senso. In parte almeno. Ci siamo evitati un gruppetto di persone. Niente di assurdo. Però... Sempre... Un pericolo in meno. Tipo se arrivano adesso ce ne sbatte. Non arrivano neanche. Quindi... Va bene così. Comuniciamo a indietreggiare tutti. E andiamo a casa. Dove via. Ok. Stato confermato. Abbiamo salvato un contatto civile. Tre turni. Ma ce la facciamo ampiamente. Perfetto. Missione eseguita... Quasi al top. Se le dire. Quindi... Che cazzo... Cosa bisogna aggiungere? C'è... Niente. Benissimo. Fantastico. Bene, bene. Molto bene. Dovevo rifarci alla grande così dopo quella morte della scorsa missione che mi ha fatto bestemmiare per dieci anni. Eccoci qua. Sono felice dei successi delle truppe in missione. Fanno bene al morale dell'equipaggio. Che tu sei chi... Quella che abbiamo perso sostanzialmente. No, non sei chi. Ma forse avrei scelto... Vabbè, non importa. Bumbo in buca. Sempre e comunque. Ok. Inevitacione. Vado sul protocollo di combattimento che è strautile. Ma è troppo utile. Ne abbiamo uno shinobi. Va bene. Benvenuti anche voi. Caricatore automatico delete. Artefatti. Ok. Vabbè. Vip. Va bene. Perfetto. Abbiamo avuto anche novitati. Eh, andiamo a vedere cos'altro c'è nel mondo qui. Non abbiamo ancora... Abbiamo bisogno di 80 minimo per il... Per... Vabbè. Per fare i nuovi contatti. 28 dati. Questa 4 giorni e 7 ore. Non penso ce la facciamo. Perché... Cioè... Infiltrazione base 5 giorni. Non capisco se è infiltrazione base. Penso il minimo che... Eh, però vedi così... Siamo 4 persone. Non ce le mando a far cosa. E la cazzo... E la cazzo è un bengala. Cos'è? Ma recupera oggetto da veicolo advent. Cioè sarebbe da fare proprio una missione... Ma sai che sono forse tentato a farla sta missione così? Se ci mettiamo tutta la gente tipo... Stealth. E poi ci la diamo in gambe elevate. Perché no? Ah, lasciamo per... Non ho... Stealth. Avessi qui tipo di shinobi... Quella gente... Non mi collo mai la classe. Come si chiama quella? 0 giorni e 20 ore. Ma che stai pigliando per il culo? Ma come cazzo si fa? Ste missioni qua inutili. Cioè... Se a 20 ore devo infiltrarmi, certo. 6 giorni, ah. Questa cos'è? Sabota il monumento del lato. Questa è la gatecrusher originale, no? Cos'è? 6 giorni e 18 ore. Se leviamo un soldato... Granatieri lo teniamo. Granatieri, assaltatore, tiratore scelto, specialista, tecnico, mitragliere... Vediamo il ranger? Sì, dai. Vediamo il ranger. Vediamo se siamo a posto. Secondo me, sì. Va bene. Va bene. Molto bene. Ok. Molto bene. Abbiamo un nuovo... Nuo... Nuo soldato. Una nuova classe. Ehm... Non avevo sbagliato sto giro. Ok. Ehm... Sì, mi servono. Qual era quello che diventava... Lo shinobi? Per forza. Ok. Abbiamo a disposizione roba per... Per gli ufficiali. Va bene. Ti direi... Tu puoi diventare un ufficiale, a mio parere. Investi un'azione per conferire a tutti gli alleati dentro la portata di comando più oltre una mobilità per il resto del turno. Ti sembra un otto. Fuoco concentrato. Per conferire la squadra bonus come... Sì. Investi un'azione per disegnare un bersaglio e conferire alla squadra bonus come motivo della mira e un'opera di trammatura. Oddio. Investi un'azione per conferire a tutti gli alleati dentro la portata di comando più tre mobilità per il resto del turno. Cazzo. Ehm... Andrei sul fuoco concentrato. Ok. Per ora va bene un ufficiale solo. Anche avrei preferito altri perk, onestamente. Oh, va bene. Vabbè, vi ho già anche l'altro, giustamente. Quindi, andiamo alla scuola qui. Ehm... Sì. Ehm... Infatti è un altro shinobi. Vuoi avere sta gente qua perché mi piace molto averli per... Per esplorare tante missioni e avere un vantaggio sui miei missioni. 5 giorni e 5 ore. Fattibile. Salva i VIP ancora. Un scienziato, pacchetto dati come ricompensa però. Non ci sputo sopra. Ranger, saltatore... Tecnico può essere utile. Lo shinobi può essere utilissimo. Uno specialista. 5 giorni, ok, ce la facciamo. Ehm... Magari... Abbiamo delle modifiche. Ora modifico e ci vediamo fra poco. Si va. Eh? Aspettiamo ancora. Sì, è sempre un po' fresca roba, purtroppo. Qua non serve fare niente. Continuiamo a togliere di questi detriti. Continuiamo ad aspettare qui. Vediamo se qualcosa viene fuori. Un'altra missione. 6 giorni... Cos'è? Diceva? Molto leggera. Recuperare un oggetto da Abduent. Si può provare. Si può provare. Anche se sono dei più specialisti. Perché questa missione qua è importante avere uno specialista per recuperare l'oggetto da distanza. Perché non sai mai cosa minchia succede. Però qua possiamo portare anche una squadra molto... Oh, proprio giusto giusto. Mi sa che però non gli va bene al gioco. 5 giorni, 3 ore. Però non so, sta... 10 turni... Modifico, dai, ci proviamo. Modifico e torno fra poco. Ah, non è tol'arma di quella. Che fastidio. Vabbè, non importa. Mi piace avere dei rifiuti. Ok. Aspettiamo. Boh, abbiamo una missione per il prossimo episodio. Grazie per aver guardato il video. E sì, alla prossima. Grazie per aver guardato il video.